Lo sapevi che solo nel 2000 il titolo di campione del mondo della WCW passò di mano per ben 20 volte? Non solo, in sei circostanze fu pure dichiarato vacante. Il dissesto creativo e quello economico della federazione la porteranno poi ad essere acquistata dalla WWE per una cifra straordinariamente marginale.